Le acque del fiume sotterraneo confluiscono nel vano orientale della città. Lungo le sfoglie del fiume, ritratti al cielo a vento, si snoda un intricato rubbio di mangrove. Queste piante riescono a prosperare nelle zone in apparenza più difficili, con le fasce territoriale che sono più soggette ai cambiamenti di parea. I nuovi arbusti che sono acerbordiali in un ambiente spesso allagato, battuto dalle onde, è caratterizzato da un alto minacolo di salinità. Ma nella maggior parte dei casi, questo minacolo per lo più non si verifica, grazie allo sviluppo di un seno. ... ... ... ... ... ... ... ...